Ciao ragazzi sono Bluefire, benvenuti nella BluefireTV e oggi massacriamo un po' di zombie Bene sì, siamo nella mappa downturn del server MC Infected e stiamo per iniziare la partita in cui dovremo per 5 minuti scappare Dopodiché uccidere tutti gli zombie Benissimo, facciamo un po' di parkour per ben 8 secondi, no, questa volta no E vabbè, guardiamo le skin, sono bellissime qua, tutti i premium Fantastico E, boh, pronti a scappare Io non sono, cioè ho già giù fatto un po' di partite Quindi come vedete ho già l'elmo e i piedi di ferro E ora dovevo scappare, semplicemente scappare Gente che preme play sur plate, boh, a caso Scappiamo distanti in ogni caso Dobbiamo cercare un posto dove nasconderci Chissà in sta mappa dove ci si nasconde Mmm, questa non mi sembra una bella zona Andiamo di qua Sì, di qua Ah c'è una porta, siamo troppo vicino allo spawn ancora Quindi andiamo più distante Prima, la partita prima ho vinto Ho trovato un altro posto bello dove stare Comunque, io qua, andrei di qua Di qua, di qua, di qua C'è nessuno? Ok, perfetto Questo posto, non ho idea di dove sia Dove io sia Ok, la cosa positiva è che non sono zombie La cosa negativa è che non so dove sono Ah, è la mappa dove bisogna salire Perfetto, saliamo allora Chissà se riesco a sopravvivere Saliamo, saliamo Andiamo E scaliamo questa parte Quando vedete questa mappa Dirigetevi subito verso questa enorme costruzione rossa È la scelta migliore da fare per vincere questa partita Adesso vi faccio vedere anche dove andare Ossia, non lì dove vanno tutti Voi andate di qua Fate questo saltino Uh, ok, perfetto O comunque potete passare anche da destra Basta che arrivate qua E ora, il posto migliore in cui stare in questa mappa è lassù Lassù in cima Non so se l'ho già detto Non so se ho giocato questa mappa Perché io registro con due pc differenti E quindi, boh È un po' problematico capire quale cosa è stata già messa E quale cosa non è stata messa Eccoci qua, comunque Cavolo Da qui inoltre possiamo vedere l'arrivo degli zombie Vi metto il fove in normal, magari Posizioni video Normal, magari lag Facciamo corta Ok Ok, corta me la tiene tanto Non c'è problema Eeeh Zombie Eccoli là Sono tutti là Quanta gente c'è? Quei là Nico Si chiama Nico Nico qualcosa Nico Nico Forse era Mickey Mouse Andiamo là dove c'è la massa No, no Perché lì non è uscito Ok Vedo che hanno leggermente modificato questo tratto Per renderlo più difficile Ma si può salire da lassù? Sì, allora saliamo Adesso vado a sparargli un po' di frecce Eh, ragazzi Gli zombie che arrivano Si possono vedere benissimo da qua Oh, poi la Eccoli laggiù Che tentano di salire Bomba Che rallenta tutti i guai Più che altro si spawna un enderman Qua siamo tutti nella cacca Quindi ragazzi Consiglio che vi do Il saggio Consiglio del saggio E di stare qua Se volete vincere questa mappa Se volete avventurarvi Fate come ho fatto nel precedente episodio O nel successivo Perché uno dei due so già che l'ho perso Qui cosa c'è? Ah, qui si può scendere Lì ragazzi è pericolosissimo Vediamo quanto manca di tempo 60 secondi Ci sono 31 mani e 19 zombie Pochi zombie direi Questa partita sarà Una vittoria facile Io ho anche qualche freccia No, me li stanno già uccidendo tutti La Wow Sì Headshot bitches Oh, tre colpi Buttiamoli tutti giù Sì Sì Fuoco Ho finito le frecce Bene Cosa succede qua dietro? Tutti si stanno ammazzando da soli Cosa cavolo ho tentato di fare? Boh, misteri 17 secondi comunque È finita Buttiamo questa bomba E ora ci buttiamo lì Sì Giusto per il piacere di farlo No, sono morto come un piccio Comunque vabbè ragazzi Ho vinto questa mappa È come se l'avessi vinta Tanto ne ho vinte tantissimo E... Boh Giochiamola un'altra Perché no Questo episodio posso allungarlo ancora Cioè Mi scotch aver perso Prima ho vinto Me lo meritavo anche Mi sarei meritato di vincere anche in questa mappa Però Purtroppo Non è andata così Perché in realtà quando scade il tempo Si può Ma c'è scritto se ho vinto Ho già cancellato ogni volta che si trasporta lo sport Dividere il trasporto per lo sport In ogni caso Cosa sta facendo? Succedendo A lato ci sono i voti Per votare si fa Slash Vote 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 E vi dire appariranno i nomi delle mappe Noi vogliamo Highrise N1 1 Ck Nick Salutiamo Nick Bella mappa Vote 3 Boh Non so perché ho votato Highrise Ma perché Mi sembrava Boh Che lo stessero votando tutti E allora Ho deciso Di sopportarli Siccome anche non avrei voluto fare Altrimenti Siccome il secondo voto Era 4 30 secondi Si inizia anche questo secondo match E basta Parco Mi sto annoiando Picchiamo il panda Don't Com'era il don't? Il panda Ciao Ciao JC JC 751 Di ciao a youtube JC JC 751 You Are On You No Off a un block Vabbè Scappiamo Develo dire dopo Ah siamo in Highrise Dove avevo già vinto Finalmente però ve lo posso fare Col microfono nuovo Questa volta Siccome Già ho vinto tante volte In questa mappa Voglio Proprio Cioè Per una volta Non voglio andare a vincere Perché io so come si vince Cioè L'altra volta stavo per vincere Ma Io l'ho vinta molte volte In quel modo Questa mappa Quindi voglio tentare Di Oh non morire Di nascondermi In un posto Dove non sono ancora andato Tipo Qui No Proviamo qui Di sicuro mi massacra Ho scelto un pessimo posto Ok Siamo nascosti Qui Basta che non arrivi da lì Se arriva da lì Sono fregato Io gli sparo le frecce Se arrivo Ma se è uno Dovrei avere Uno in più di rank Perché avrei La spada di ferro Mi pare Con uno in più di rank Potrei controllare Quanti biscotti ho Vediamo Così vedete il rank Verifica No 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 Hai sbagliato Di brutto amico Non so come sono sopravvissuto Mi sono mangiato tutte le mele Adesso scappo Perché quello ritorna Sicuro E boh E via 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 Misteri No non mi uccidere tu però No 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 Brutta mossa Scappiamo Per scappare Si lancia la bomba a terra E si corre in una direzione Ok Boh Eeeh No no Anche tu no Ok mettiamoci qua Dove c'è la massa Vediamo se riesco A scappare fin di là Sì Sono salito qua in cima In questa zona camperona Molto diverso Boh Non ero mai arrivato qua Quindi Per la prima volta Siamo qua Ma io posso anche buttarle giù Ancora tre frecce Sì Guardalo Dio Dio Ciao Saluta YouTube Saluta YouTube Anche voi cinque Wow Waffle Potrei comprare una mela Sto facendo vedere tutto Quindi Troppo Voglio una mela Quanto costa Grazie E ora no No quello è pericoloso Cosa fanno tutti là Tentrano tutti di salire Ah 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 Cento secondi Che figata però In questo episodio Vi vedete bene Tutti gli zombie Vi piace questa mappa No no Che mi spara No Sono morto Vabbè Peccato Per una volta ho provato Un posto diverso E sì Bene Questa partita finisce qua Spero vi abbia entusiasmato Ci vediamo Al prossimo episodio Di MC Impacted Bye bye da Blue Fire È tutto E Morizio Bye 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 bye